Sì, buonasera a tutti. Con questa mozione i firmatari chiedono che si possa superare il limite previsto dalla delibera 48 del 2009 per la concezione delle piazze storiche. La motivazione è racchiusa nella finalità di questa manifestazione. Stiamo parlando della tutela della salute, stiamo parlando di check-up gratuiti di vario tipo, insomma il check-up elettrocardiogrammi, pressione arteriosa, prevenzione senologica. Sono numerose le iniziative che verranno effettuati in piazza San Silvestro gratuitamente. Quindi noi chiediamo che venga tutelato, quindi richiamando anche la Costituzione dell'articolo 32, dove la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. In virtù di questo principio fondamentale costituente noi chiediamo che la manifestazione, che avrà una durata di 5 giorni, possa superare questo limite che sicuramente ha una finalità ma che in questa occasione può essere superato, poiché l'obiettivo che ci prefiggiamo è molto importante. Io credo che la maggioranza e spero che l'opposizione voglia condividere questo intento nell'interesse della collettività, quindi chiediamo a tutti di poter essere con noi in questa bellissima manifestazione della nostra meravigliosa città. Grazie.